L'Europa attraverso il Fondo Sociale Europeo ci permette di realizzare dei percorsi di formazione professionale rivolti a ragazzi tra i 15 e i 18 anni, operatore grafico e operatore dell'abbigliamento, grazie al quale cerchiamo di intervenire su ragazzi che hanno vissuto situazioni di inadeguatezza in altri percorsi formativi e che spesso hanno vissuto come protagonisti situazioni di bullismo, sia come bulli sia come vittime. Il nostro obiettivo è quello di cercare di offrire dei percorsi alternativi per valorizzare quelle che sono le competenze individuali di ognuno di loro e di indirizzarli verso quello che sarà il loro futuro, basandoci sulla passione. La foto vincitrice del concorso cerca di raccontare, grazie al coinvolgimento dei ragazzi, quello che è il nostro approccio.